Buongiorno a tutti, sono la giraffa Silvia. Sono stata ingiustamente accusata di aver rubato due milioni di foglioline di albero e di aver corrotto giudici giraffi per non essere processata. Questo non è vero. È un terribile complotto da parte delle giraffe rosse. Erano le foglioline che mi cadevano nella bocca, mentre quando io dormivo. Ora, per non finire nello zoo, devo fondare un partito. Voglio fondare un partito. Ho bisogno del vostro aiuto per farlo. Quali di questi nomi mi consigliereste? Forza Giraffa. Popolo delle giraffe libere. Futuro Giraffa. Ringrazio Andrea Pezzini per aver abbracciato la mia causa, avermi spiegato su Facebook. Arrivederci.